Passiamo di qua Centrocampo, tutti facciamo il campo Oggi è sabato, ci troviamo al nuovo di via Olimpia Esibizione dei primi calci e piccoli amici della Virtus Castelfrentano e Valle Aventino Sono esibizioni programmate dalla federazione I ragazzi stanno facendo i loro ingressi in campo La Virtus Castelfrentano e i baby atleti con la classica maglia giallorossa Mentre la Valle Aventino con la maglia gialloverde Si stanno schierando a centrocampo Facciamo un saluto Che salutano il pubblico Che sarebbero i genitori, i nonni, i zii che hanno portato i ragazzini oggi C'è mister Gabriele Di Felice, il coordinatore tecnico della scuola calcio Settore giovanile della Virtus Castelfrentano C'è il presidente della Valle Aventino La Mister Il campo è stato suddiviso in varie porzioni Per permettere in simultanea l'esibizione dei ragazzi Ecco si suddividono in vari gruppi C'è mister Anna Rita da questo lato C'è mister Gabriele da quest'altro lato C'è Billy là in ponto C'è anche mister Nicola Ragazzini C'è anche il pubblico Sarebbero i genitori dei nostri atleti I genitori dei baby atleti della Valle Aventino Nicola Nicola Mi prendi la busta La borsa De